Ah C'è un programma che li faccia svegliare e cantare Ma che dici con tutta la roba che c'è qui dentro? Eccoci qua, lo zio Ian ha quello che ci vuole per voi, un espresso Io non sono depresso No, espresso, Theodore, è caffè Una specie di bevanda super energetica e super fica Alla quale ho aggiunto panna montata, caramello e due spruzzate di cioccolata Tutta vostra Vediamo se così si svegliano Questo fa male Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti